Papà fu un giudice scomodo simbolicamente all'inizio per la luce accesa nella sua stanza il pomeriggio che era l'unica in quegli anni, negli anni 70, ed era scomodo perché i suoi colleghi concepivano il lavoro di giudice come quello di un normale funzionario dello Stato. Papà rivoluzionò completamente questa visione affidando a se stesso prima di tutto e ai suoi colleghi che poi entrarono nel pool antimafia un ruolo decisivo di affermazione dei valori di giustizia, dei valori della Costituzione e della democrazia. Cosa significa per lei raccontare la vita di suo padre? Quanto sono importanti al giorno d'oggi questi confronti? Soprattutto quanto è importante parlare con le giovani generazioni? Guardi, io attraverso la memoria, attraverso il racconto di episodi anche familiari, anche semplici, ho cercato di rappresentare soprattutto per i giovani anche quel senso di normalità che pervadeva il lavoro di papà, il suo atteggiamento verso il lavoro che ha trasmesso anche a noi familiari. Quindi anche se in realtà lui svolgeva un lavoro che a un certo punto diventò anche estremamente complesso ed estremamente rischioso, però nonostante tutto lo ha vissuto sempre con un senso di normalità. Quindi un impegno, un impegno professionale ma anche un impegno civile che deve essere di tutti i cittadini, non pensando che chi Nici, Falcone, Borsellino, tutti gli altri che potremmo nominare, sono degli eroi, no, sono soltanto delle persone eco-normali che però hanno avuto la forza e il coraggio di portare avanti fino in fondo i valori in cui credevano come cittadini e come magistrati.